Tercole contro Haynes, il gioco a due, la ricezione di Mbac, questa volta non si fa fregare, fa su Trevor Mbac, ottavo punto della sua partita. Se la c'è ancora dunque, anche la schiacciata di Haynes che arriva a quota 29, mette il punto esclamativo sull'ennesima serata storica. Poi Jenning a chiudere il contropiede di Goss, vuole accelerare nuovamente, Phil Goss, che assist e che schiacciata per Alil Kanacevic, splendida. Carter, ma la per Nelson che fa saltare Baron, poi la stoppata in aiuto di Bobby Jones. Questo primo quarto con il tentativo di difesa d'anticipo di Baron su Spencer Nelson, che va a schiacciare il meno due.